Beati audium e timbarbum diuri per Christian Dorum siguri e tanto su quelle latin e vi oitri il latin Luca Piccinan e bang andu ma piravonti. Parrocchiani della nostra parrocchia e parrocchie limitrofe e con circoncise, con circonvicine, perdono. Voi disquintevi in aneddoto e dopo au dispiech il parquet. Quanto a che soppie che in Tliggenesi nosgnore diio spaseggiava in terricel con il man in saccoce e la siggala in buco e contemplava il creato. E' un bel il prus, oh quintoge che io dic al signore io proprio fai tutto bene secondo la mia volontà. E' un tanti momento nosgnore dios nam visat l'home e tacats a me. Adam, Adam, ent'hai quits ei? E nye 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 rispondeva. Nosgnore sent rabiosi e ora tocas braia se. Adam, slaverondi il buio, sota sui tèno. Ent'l'u risan'navo singa che l'avveniva d'la sul pundi, dred la feoia tfec e cu la diva. Sono quino snur, beli patanè. E perchè salti non a fare a quanch'e ciò, ma cipico ti fai qui zandami anca, tiro la priglia e scondo la mano. E Adam la rispondì glì, sota vana a fare a nosgnore perchè hai avva paura e vergogna. Ed avva paura e vergogna. E su qui perchè quella forca d'evola va dai da mangiare? Pum! Spinta dal sartan! Che porio d'uomo sta errosione in te culo e morì volopone in indigestio un tolo che andò c'era maternito. E vanta non avevi paura e vergogna di Dio perchè nosgnore di Dio sarei uno spore nei verbanzo, ma ti ti so, ma tu ce lo vai o non? E tu magari nosgnore fa la faccia del ful, ma non è un ful. E su sanrabbiacchiale, povri gian su sanrabbi nosgnore. Ma lo serve che me che mi ciaffa tu moti che la sbarniocca fa certi il grimele, nosgnore c'è palpegador lo sbarniocca fa certi il bueli. E come nosgnore di Dio sarei uno spore e la Madonna che sarei sua nora per via che sarei l'amore di Gesù Cristo e se qui è una parentela paraventano all'innette che avrà dei squetti. E la Madonna sarei nostri amori. Ed eccomi al dunque e al perché del mio aneddoto. Domenica qui va sarei la festa della nostra burgio e da s'andare a Madonna la patrona della nostra burgio, conseguenza domenica qui va e la festa della Madonna e lo vaio non è. Ma, ma, per rispite e prestigiate i miei mantri a Madonna basta non andare a fare la percezione in tutto il piolo del paese in ciuchesi medoso. Bisogna presenziare le funzioni e per funzioni vai che vanno a andare in tanti. Diamo soccantoia con la predica, benedizione, i vespri e via dicendo e via dicendo. A proposito del conto, devo divino a Roma, ma prima dobbiamo fare una parentesi per una comunicazione urgente. A riguardo con la Slavarone del Benge e il Sagresta, ma combiniamo la grossa, a velchi lo sapete, ma abitiamo dal vino brisco in tal tabernacolo e mi facciamo mangiare un signore ancora più. Chiusa la parentesi. Come credo, stanno qui la messa a slaccantare i miei oltri. Fummo anche per i dautroni che siamo a far slaccantare dai curisti a Terenchi e loro fermi che arrivavano da Rossitocco e poi arrivavano qui, andando a fare la via cruci, sentite il piole del paese, e poi ciocco mi dà qui nel momento di attacchermi il tiri e cristo e mancontami la violetta. Su qui non succede. Bum, bam, punto e basta. Parli uomini, parli uomini, perché per il doni è un discorso forte, tu so, perché il doni sarebbero le predilette della Madonna, in quanto la Madonna è una donna cochile. l'uomini, la più breve e la più bella del doni del mondo. Soprattutto la più bella. Oh, si prevella la Madonna. E ma che mananti dice i figli qui intorno e non ha belle figlie, specialmente solo in prima figlia Teresa, la figlia del millinè. Eh, la più bella figlia che pensi trovi nel nostro paese. Bantan per fare un esempio ho detto qui, la Teresa l'esambele qui e in confrondere la Madonna a Renabusa. E vi ho i tre, eh, doni e matote. Teniamo i piccoli doni della città che vanno a giro con la minigonna, ballo il secco e ticci le porcarie qui, eh. Oh, non ma con i altri in paiera qui in questo paese, so. Lui credo che mi vogliono, loro, tutto il distante del borde in alto del circolo comunista che ha sbagliato il famoso per i giorni. Oh, 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 oh. Cosa che ha scritto, loro? Scritto forse delle meritorie, loro. Scritto forse delle biote, loro, sporche che ci hanno fornito facciosi da fuori, eh. Lui che ha mandato il fietto e pastire il criovi per prendere il crino e da tre del ciuandi. E finiranno tutto l'inferno con le gambe per ori e le ciappose in vische su quello di me. Ma se mia, dovevi, vedete, aveva spesso domenica che io andavo a festa a Drea Burgioia e Drea Madonna e adesso andavo Beati audium e tim verbum Diumi per Cristiam Dorum Seguri. Adesso andavo a fare dei voli perché arrivano le persone in Sagra Stia e... Grazie.